Sì, sì, già l'ho fatto. Salve, mio fratello mi ha preso col farlo della cinghia un liquido enorme sulla coscia. Stamattina mi ha morso il stolo. Perché se... se c'è... Porco il Cristo, oh, è trattassato cinghia. Un'altra volta. Due. Uno. No, se stanno qui non è tutto male, percoddio. Perché non scopri. L'hai detto tu, figlio, da casa base andiamo su... ah, la casa base. Ah, perché a casa base? Io che provo a prendere i cecchini silenzati ma non vi piasko. Ecco, venga c'è il Cristo, oh, a me li spavano! Oh, no! Posso gestire i danni, ma ti mette male! Era di merda! Bersaglio pistano! Alle! Oh! Ah!